E va, mangia libri di cibernetica, insalate di matematica, e a giocare su Marte, e va. Lui respira dall'aria cosmica, un miracolo di elettronica, ma un cuore umano va. Ma chi è? Ma chi è? Raggi l'alte che sembra un pugno, è protetto da scurità, si senti nella luce, si fa. Quando si alza un presente magico, lui diventa un intergalactico, lotta per l'umanità. Lui respira dall'aria cosmica, un miracolo di elettronica, ma un cuore umano va. Ma chi è? Ma chi è?